Ancora un rinvio nel processo per la rissa legata all'omicidio del giovane medico sancataldese Aldonaro, con le accuse per i tre imputati ormai prossime alla prescrizione. Una situazione che ha spinto i familiari dello sfortunato giovane a dire basta, tanto che hanno deciso di non essere più presenti alle udienze che si svolgono davanti al giudice monocratico di Palermo. Aldonaro venne ucciso il 14 febbraio 2015 nel corso di un parapiglia scatenatosi all'interno dell'ormai ex discoteca Goa di Palermo, nel quartiere Zen, durante una festa di carnevale. I colpi ricevuti non lasciarono scampo al giovane professionista. Attualmente è in corso un processo per omicidio in corte d'assisi a Palermo, che riprenderà nelle prossime settimane. In questo caso sono imputati gli ex buttafuori del locale Francesco Troia, Antonino Basile, entrambi rispondono di rissa aggravata, e Massimo Barbaro, il proprietario dell'ormai ex discoteca, che risponde di favoreggiamento nei confronti di un minore, finora l'unico condannato per l'accusa di omicidio. in quanto non avrebbe riferito alcuni dettagli all'inquirenti, agevolandone la fuga. I genitori di Aldonaro, il generale dei carabinieri Rosario Naro, la moglie Anna Maria Ferrara e la sorella della vittima Maria Chiara, parti civili con gli avvocati Salvatore Falzone e Antonino Falzone, hanno affermato. Non è tollerabile che un processo del genere possa trascinarsi stancamente per un così lungo periodo di tempo. Siamo ancora in primo grado e con ogni probabilità i reati cadranno in prescrizione. La nostra pazienza è stata messa a durissima prova. Rinvii troppo lunghi tra un'udienza e l'altra, ripetute assenze di testimoni, continui forfè da parte di consulenti tecnici di parte, senza che sia mai stato disposto il loro accompagnamento coattivo. È come se non bastasse la mancata nomina dei periti per la trascrizione delle intercettazioni fino allo scorso luglio.